non so quante tentative ci sono adesso ma sono di più e 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 ma se serio natsu ma sei serio e e e e e e e ma questo è a culo ora questo è totalmente a culo quello che mi aspetta e 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